Quella che ti racconto è la storia di un viaggiatore che, durante il suo cammino, si ritrova di fronte a un fiume. In quel punto non può attraversarlo a piedi o a nuoto perché la corrente è troppo forte. Il primo ponte è a chilometri di distanza e raggiungerlo significherebbe una perdita di tempo e uno sforzo troppo grande, anche perché si è appena scatenato un temporale violentissimo. Allora il viaggiatore decide di usare gli alberi e le liane presenti nei dintorni per costruire una zattera e attraversare il fiume. Taglia qualche albero e alcune liane, li lega tra loro e riesce a costruire una solida zattera. Quindi trova un lungo ramo resistente e lo taglia per aiutarsi nella traversata. Spinge la zattera nel fiume e, aiutandosi con il ramo, raggiunge la trasponda. Il viaggiatore è pronto per riprendere il suo viaggio e sa benissimo che non incontrerà altri fiumi lungo la strada, ma mentre sta per riprendere il cammino, pensa alla sua zattera, a quanto gli è stata utile e a quanto è solida e come è stata ben costruita. Ma il grado sappia benissimo che non gli servirà più e che portandola con sé rallenterà la marcia, decide comunque di non abbandonarla. È così di parte il suo viaggio con la zattera, ormai inutile, in spalla che lo costringe a camminare molto più lentamente e con fatica. Siamo arrivati alla fine del video. Ti invito nuovamente a iscriverti al mio canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e aggiornata su tutto quello che pubblicherò. Se sei curioso, curiosa e non sai ancora cos'è Business Inbox Italia, male? Ecco per te un breve riassunto. Business Inbox Italia è una scuola online dove grazie al programma Academy imparerai tutto quello che serve e molto altro per creare, lanciare e rendere profittevole qualsiasi business online. Con il programma Mentor potrai far parte di una cerchia ristretta di persone che hanno migliorato la loro vita grazie ai consigli di 4 mentori straordinari. Fai azione e ci vediamo dall'altra parte. Alla prossima!